dove stiamo andando? a visitare l'hunger io so quanti spirdi che stanno spirdi? i spirdi dei Marines senti che nessuno è morto qua questo non te lo so dire prigionieri cosa? no, in una base diciamo che non ne tengono prigionieri giù giù erano tutte cose missilistiche ok no assolutamente senti cattivo odore bene ce ne stiamo andando su ok 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 ok